Allora, questa mattina incontriamo Scuole del Territorio e l'ASL per un progetto che è stato messo su dalla Commissione Politica e Sociale Provinciale, chiaramente votato e quindi sponsorizzato dall'amministrazione provinciale, che prevede una fase di ascolto nelle scuole per il problema della dislessia, quindi dei bambini nella lettura. Cercheremo di fare uno screening sul territorio, quindi abbiamo scelto scuole che rappresentano l'intero territorio provinciale, da Agropoli a Cava e quindi ad Angri, rispetto alle quali verificare la presenza di questo fenomeno e della difficoltà della lettura. Dopodiché avremo quindi la raccolta dati grazie a un gruppo di volontari che ha già dato la disponibilità e che sono state selezionate con una procedura pubblica da parte del dottore Bellino. Alla fine presenteremo all'ASL il risultato di questo studio e chiaramente chiederemo, magari con un protocollo d'intesa tra provincia ed ASL, di adottare delle misure a seconda della portata del fenomeno, che siamo convinti, perché già l'abbiamo verificata, è presente. I componenti della Commissione stamattina incontreranno unitamente a me i rappresentanti di istituto e quindi chiederemo a loro la collaborazione nel fare questa indagine tra i loro studenti, chiaramente parliamo di studenti delle scuole di livello provinciale. Salve, allora la problematica del progetto per quanto riguarda i disturbi dell'apprendimento, legati soprattutto alla lettura, quindi alle scuole, in particolare con riferimento alle scuole elementari di questo progetto, è una ricerca che servirà ad evidenziare una serie di problematiche rispetto soprattutto alla scuola elementare, quindi ai ragazzi che frequentano le seconde classi della scuola primaria. I tre istituti che sono stati individuati sono l'istituto di Agropoli, l'istituto di Cava, di Tirreni e l'istituto di Angri, per un totale di 60 bambini. In questo momento stiamo qui approntando il tavolo tecnico per poter poi predisporre le schede da somministrare e poter ottenere questi dati, che poi si arriverà ad avere una giornata di sensibilizzazione che verrà fatta qui in provincia in collaborazione con l'ASL, con il Provedorato e con le Università di Salerno e di Napoli.